Il Consiglio regionale ha realizzato in collaborazione con il Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte il sito internet in lingua inglese Piemonte4U. Le pagine informano sulle opportunità che offre il Piemonte a livello commerciale, imprenditoriale, turistico, i servizi, la salute, la ricerca e le organizzazioni internazionali. Nel 2013 è stato consultato dai visitatori provenienti da 119 paesi con un aumento del 50% rispetto all'anno precedente. italiani, americani, australiani e inglesi sono stati maggiori utilizzatori del sito che ha suscitato interesse soprattutto per le informazioni sul turismo e lo shopping.